Tempo di bilanci anche per la bionatura Nottolini-Capannori. Alle spalle un 2018 davvero fantastico con un campionato vinto e la Final Four di Coppa Italia svoltasi peraltro al Palatagliate di Lucca. Ne è consapevole anche il direttore sportivo Ronzo Miccoli che non ha dubbi sul voto da assegnare alla squadra bianconera allenata ormai da una vita dal valido coach Sandro Becheroni, una sorta di Ferguson del volley nostrano. Darei un voto ampiamente meritato oltre l'otto, abbondante, con la motivazione che veniamo da un'annata strepitosa per quanto riguarda la passata stagione, aver vinto un campionato con una sola sconfitta, essere andati in finale di Coppa Italia, essere arrivati in seconda, insomma, è un motivo di soddisfazione notevole per una compagine come la nostra di un piccolo paese come Capandoli ovviamente siamo ampiamente soddisfatti in primis il presidente Paolo Gradi e poi Giugiu per quanto riguarda tutta la società. Casomai ciò che ha piacevolmente sorpreso al di là della forza del gruppo ormai cementato da mille battaglie e fatto come sul dirsi in casa è stato l'impatto con la nuova categoria, la B1, una Nottolini scintillante capace di infilare una serie di risultati perlomeno inaspettati, un abbrivio che forse nessuno si aspettava. Siamo partiti alla grande e abbastanza forti per quanto riguarda i primi risultati, poi siamo incappati in un momento di appannamento ma con le tre squadre che sono al vertice della classifica che ovviamente era da mettere in preventivo e anche la sconfitta, ma le ragazze si sono subito ristabilite risfoderando la loro prestazione migliore e andando a vincere le ultime due e riportandosi di nuovo al ridosso dei playoff. Esaurita la pausa natalizia di fine anno, già sabato sera si torna in campo per la disputa dell'undicesima giornata di andata. Nottolini chiamata la difficile trasferta sul campo della 3M Perugia, formazione che vale a sé di più della classifica che vanta. La partita avrà inizio alle 17, si prospetta come un impegno senza dubbio ardo e complicato, ma la squadra del presidente Paolo Gradi ha ancora voglia di stupire.